senza bavaglio informazione libera sempre oggi ci occupiamo di ilva ci occupiamo più che di ilva delle falsità del movimento 5 stelle degli inganni che sono stati perpetrati a danno della collettività di taranto i 5 stelle si sono serviti dell'ilva della promessa di chiusura dell'ilva per catturare per rubare i voti punto e basta dopodiché una volta arrivati al governo al potere altro non hanno fatto se non quanto avevano fatto i governi precedenti si ammazzava con l'ilva prima e si continua ad ammazzare con l'ilva oggi questo è il risultato dell'accordo che prevede la giudicazione della gara che consegna mani e piedi che consegna taranto legata mani e piedi a mittal le condizioni ambientali sono di gran lunga peggiorative si è puntato a salvaguardare l'occupazione attraverso ovviamente un 10.000 posti riconfermati di fatto con assunzioni di 10.000 unità circa poi ci sono dei numeri restanti che verranno smaltiti in in vario modo anche attraverso attraverso le così gli incentivi ad andare via quindi un 100.000 euro appunto di incentivo lordi netti un 70.000 proprio per ridurre il personale e per andare a coprire diciamo così quelli che potrebbero potevano essere gli esuberi ma diciamo dal punto di vista occupazionale il problema è stato pressoché risolto la gravissima loscenità riguarda la situazione ambientale il quadro ambientale perché perché se è vero che si anticipano i tempi di copertura dei parchi minerali è altresì vero che si consente un incremento della produzione da 6 a 8 milioni di tonnellate l'anno ma cosa gravissima si pone il limite per quanto riguarda le emissioni cioè si dice puoi produrre di più purché però non sfori i limiti posti per le emissioni però questo è grave lo dicevo per le emissioni convogliate nulla è previsto per sanzionare gli sforamenti ulteriori che deriveranno dalle emissioni non convogliate ossia si aumenta la produzione però nulla si fa per quanto riguarda quelle emissioni fuggitive ossia quelle che scappano fuggono dai parchi minerali e dalle cocherie quindi il limite di mantenere quei parametri relativi alle emissioni valgono solo per quelle convogliate ma non per quelle non convogliate e proprio le non convogliate sono le più pericolose le più assassine ecco perché è un piano ambientale killer di maio è stato un giuda perché dico questo perché di maio ha fatto andare due volte a roma le associazioni per parlare 40 secondi luna lui non proferiva parola segnava come sto io annotava e prendeva per il culo questa è la verità poi alla fine si è detto eh sì però non potevo fare niente non potevo fare niente perché purtroppo questo è stato il delitto perfetto perché calenda ci ha ha creato ha stipulato questo contratto con mittal noi non potevo non possiamo fare niente avevamo le mani legate falso caro di maio perché tu sapevi molto bene prima sapevi molto bene prima quale fosse la situazione il contratto con arcelor mittal era già antecedente alla campagna elettorale e al contratto di governo tu lo sapevi bene però hai voluto ridurti a metà settembre prima del metà di metà settembre il sette è stata di fatto annunciata la la giudicazione a mittal questo è l'aspetto grave e l'avevamo capito che non si voleva chiudere l'ilva perché quando di maio è venuto a taranto mica ha parlato di chiusura i parlamentari parlavano di chiusura lui tergiversava ha saputo giocare con le tre carte come si suol dire quindi tutto un gioco di parole chiusura assoluta dell'ilva si gridava in campagna elettorale per poi così questo concetto si è come dire diluito e quindi chiusura progressiva chiusura delle fonti inquinanti chiusura progressiva delle fonti inquinanti e riconversione che voleva dire tutto e voleva dire nulla alla fine siamo arrivati e quindi chiusura progressiva delle fonti inquinanti e riconversione non c'è stata nessuna delle due in buona sostanza l'ilva produceva può aumentare la produzione non è cambiato alcunché una presa per i fondelli la cosa grave è che il 24 25 26 27 e 28 settembre sono i wind day cioè quei giorni in cui c'è lo spolverio ci sono le polveri non che scappano dai dai parchi e ovviamente hanno una maggiore diffusione e penetrazione proprio per il vento quindi sono giorni particolari in cui le condizioni climatiche sollevano particolarmente le le polveri e allora ci sono tutta una serie di prescrizioni che da il comune dice dovete stare per certe ore chiusi in casa non aprire le finestre e così via quindi dobbiamo tenere le finestre chiuse bene che i prigionieri dell'ilva però c'è una contraddizione perché in alcune scuole del quartiere tamburi di taranto la vicola de carolis e la de ledda è stata riscontrata la presenza di gas radon un pericolosissimo cancerogeno e si è detto per far sì che questo gas possa evacuare possa disperdersi può possa andar via per capirci occorre tenere aperte le finestre allora scusatemi fatemi capire in questi giorni che cosa dobbiamo fare le dobbiamo tenere aperte o chiuse le finestre perché i wind day dicono alto là ci sono le polveri devi tenerle chiuse e vabbè mi barrico in casa poi mi si dice alt ma ci sono i gas tu non puoi inalare i gas stando in casa devi far arieggiare ma se arieggio mi entano le polveri dei wind days capito che questi sono provvedimenti assassini avete capito che di maio ci ha preso per i fondelli ve lo sto dimostrando dati alla mano e che dire dei parlamentari tarantini 5 stelle questa assegnazione dell'ilva ad arcelor mittal ha rappresentato la pietra tombale del movimento 5 stelle a taranto sono spariti i parlamentari non hanno più il coraggio di parlare di fiatare si è presentata in piazza della vittoria la deputata rosalba de giorgi rosalba de giorgi è stata presa a male parole come si suol dire ma cosa si aspettava fiori tappeti rossi se ci avete preso per i fondelli se tu rosalba de giorgi e tu vianello urlavate chiusura e ora l'ilva produce più di prima ma chi è che avete preso ma vi siete resi conto che ci state prendendo per il culo vi state rendendo conto i parlamentari non compaiono più non sanno cosa dire qualcuno cerca di parlare di altri argomenti per sviare per distogliere l'attenzione e lo scienziato perché si considera un esperto di di fonti inquinanti vianello cosa fa vianello si occupa dei danni che potrebbe provocare la schiuma degli schiuma parti negli stabilimenti in uno stabilimento balneare della litorania ionica cioè il problema di vianello non è l'ilva ma sono gli schiuma parti bisogna parlare di altro e o vianello incomincia continua per carità è giusto a parlare di discariche ma l'ilva non la nomina più anzi ha avuto l'ardire e il la provocazione il giorno in cui veniva il giorno dopo il giorno dopo appunto successiva all'assegnazione ad arselor mittan scrive urla l'unica ilva che può esistere quella chiusa dopo che mi dopo che di maio l'ha consegnata a mittan una presa per i fondelli rosa damato ora parla di cementer per carità è giusto parlare degli effetti nocivi della della cementer ci mancherebbe ma perché non avete più il coraggio di parlare di ilva e perché soprattutto e questo è l'altro aspetto assassino del piano ambientale rimane permane ancora l'immunità penale per i nuovi acquirenti per i nuovi proprietari per arselor mittal sapete cosa significa la l'immunità penale significa che tu hai tu mittal hai la licenza di uccidere questa è la verità la verità è un'altra che qui si è sacrificato si è sacrificato il diritto alla vita il diritto alla salute sull'altare della salvaguardia dell'occupazione diciamo che il piano dal punto di vista occupazionale ci sta va bene tutto sommato 10.000 posti salvati più come detto il discorso degli incentivi ad andare via l'occupazione salva ma qui si torna si continua a morire come prima e più di prima signori rendetevi conto che qui stiamo parlando di un ammalato di cancro ogni 18 abitanti vi rendete conto a taranto a taranto c'è un ammalato di cancro ogni 18 abitanti gli ho detto tutto e di maio ha giocato sporco molto ma molto sporco e insieme a lui hanno giocato sporco i parlamentari l'ho detto questa è stata la tomba del movimento cinque stelle a taranto e non solo un accordo assassino un accordo degno di calenda non saprei chi buttare dalla torre tra di maio e calenda capisco la rabbia la il carattere inferocito delle associazioni ambientaliste le associazioni ambientaliste tarantini hanno creduto tantissimo nei cinque stelle hanno votato i cinque stelle hanno fatto campagna elettorale per i cinque stelle le associazioni ambientaliste mi hanno chiamato di tutti i nomi perché io avevo smascherato sin dall'inizio l'ipocrisia di di maio e ora se ne sono rese conto le associazioni perché poi alla fine signori cari il tempo è galantuomo ecco ho voluto parlarvi di ilva perché l'ilva non è un qualcosa che attiene solamente a taranto magari fosse così dire una problematica nazionale ed internazionale ma chi paga le conseguenze siamo noi tarantini un malato di cancro ogni 18 abitanti taranto è diventata la città dell'ilva la città dei tumori la città della morte grazie calenda grazie di maio per aver reso taranto una città da cui purtroppo c'è da scappare senza bavaglio informazione libera sempre rei